Satap e Satap e bentornati su Inconti di Storia! Questo è un video bello breve, in cui appunto annunciamo che non siamo morti almeno, io sono morto dentro, ma quella è un'altra storia. Però ragazzi, è venuto in mente un'idea, così e volevo un secondo parlarvene. C'è stato un tempo in cui l'essere umano pensava che nel mondo esistessero creature incredibili, mitologiche le chiamavano, criptozoo a livello pseudo-scientifico, creature straordinarie, popoli che nascevano nella maniera più bizzarra e stramparata, che vivevano e combattevano in maniere che noi non possiamo neppure comprendere, antichi rituali, amicizie e inimicizie a creature di ogni tipo e di ogni genere. Eppure si passava dalle creature più belle a creature terrificanti. Queste creature terrificanti sono io! Sì, infatti ci avete ragione! E' stata pensata che... bentornati! Ma non sto facendo questo video, vuol dire che io avevo già dato l'esame... o sarò morto... non lo so... Sono qui per dirvi una cosa, appunto, il canale sta per ripartire, noi ci siamo e che dire ragazzi? Ci sarà poi un video dove parlerò di creature mitologiche, di Troy, Total War... ho fatto una promessa, e la manterrò, e soprattutto ragazzi, poi andremo a parlare anche dei persiani e del concetto di Medio Oriente. Non mi sono dimenticato di nulla, io che mi dimentico qualcosa! Ragazzi, ma perché mi avete preso? Ora, poi in questi giorni mi diranno come è andato l'esame e poi il 24 non avrò un altro, il 24 di settembre, logicamente. Non tornerò indietro nel tempo. Sì che siamo in Conti di Storia, però... Ragazzi, io mi auguro che le vostre vacanze, se andate bene, avrò poi uno special guest peloso nei prossimi video, che vi mostrerò con immesso piacere. E che dire ragazzi? In Conti di Storia riparte! Riparte a settembre, ovviamente. Quindi ormai ci siamo! E che dire ragazzi? A tra poco! Spero che queste vacanze vi siano piaciute, spero che siate ancora in vacanza e che possiate ancora rilassarvi. E che dire ragazzi? Dò il vostro ciao della porta accanto! Alla prossima, a tra poco, buone vacanze ancora e a presto!